Nella legislazione sulle risorse proprie concordata all'unanimità e ratificata da tutti i Parlamenti nazionali, il potere amministrativo di procedere a questo adeguamento tecnico è conferito alla Commissione e non si richiede una decisione da parte dell'autorità di bilancio. Se i bilanci sono importanti come quello di quest'anno, se sono rilevanti, allora proponiamo un bilancio rettificativo, in questo caso del 6-2004, per restituire ai Stati membri le entrate eccessive. Questo richiede poi però un'adozione da parte di entrambe le autorità di bilancio, noi raccomandiamo una decisione rapida da parte dell'autorità di bilancio, in modo che i soldi possano essere rimborsati agli Stati membri rapidamente. I correttivi vengono applicati ogni anno, alcuni anni il contributo agli Stati membri aumenta, questo vale quest'anno per il Regno Unito, i Paesi Bassi e altri. In altri casi l'effetto netto sarà quello di ridurre il contributo, questo è successo per il Regno Unito per esempio nel 2008. La Commissione naturalmente è disposta a dare agli Stati membri qualsiasi disposizione, qualsiasi chiarimento aggiuntivo. Nel contesto del quadro finanziario pluriannale, la Commissione aveva proposto un quadro diverso, basandosi sulle risorse proprie e non sulle rannelle, ma gli Stati membri hanno deciso di mantenere il reddito nazionale all'ordine come elemento chiave per il calcolo del contributo nazionale. L'effetto statistico dunque è stato fatto rientrare nel sistema dalle autorità di bilancio e quindi sulla base delle informazioni che ho ricevuto dai servizi della Commissione e dagli esperti giuridici, questa è una decisione che è stata presa in maniera totalmente indipendente dagli uffici nazionali di statistica. Io capisco le preoccupazioni che sono sollevate a Londra, però chiunque voglia guardare con obiettività e onestà alle regole che sono state approvate da tutti gli Stati membri, deve accettare che a volte queste sono decisioni che devono essere prese.